buongiorno a tutti amici di nexus lab sono alessandro oggi vi presento la nostra video recensione dell'IM PULSI questo è un controller compatto molto interessante che non funziona solo da controller tra l'altro ma ci consente un'infinita modalità di gioco grazie a questi comodi tasti fisici che troviamo nella periferica analizziamo però prima la confezione confezione che abbiamo già aperto perché è molto compatta è molto difficile da aprire è tutto molto incastrato allora come potete vedere le funzionalità sono diverse troviamo come è riportata una parte posteriore più o meno cinque modalità abbiamo la possibilità di contattare l'impulse tramite un bip che viene direttamente dal controller tramite connettività bluetooth controllo di musica video soprattutto dedicato all'apple tv però anche a generici dispositivi poi abbiamo snap apic ovvero la possibilità di far scattare la tele la fotocamera del nostro smartphone o tablet a distanza la parte più incisiva naturalmente quella del gioco dove sarà possibile impostare il nostro il nostro profilo di pulsanti eccetera per adattarlo a diversi giochi abbiamo poi inoltre la possibilità di usarlo come telecomando per le nostre presentazioni sia su android e su ios ma su un computer classico quindi utilizzando come normale telecomando remoto abbiamo all'interno un cavetto usb micro usb per la ricarica della batteria interna non sostituibile questa piccola custodia del impuls abbiamo messo contrario si infila in questo modo per levarla bisognerà premere su questo dentino di plastica piuttosto rigido soprattutto all'inizio quando sarà nuovo questa è la struttura estremamente piccola di questo dispositivo confrontato per esempio un nexus 5 notate come sia piccolissimo struttura interamente in plastica plastica non formidabile ma il produttore ci ha garantito che questo è il nostro possesso una versione ancora fiera mentre quella che arriva sul mercato che si acquisterete e dovrebbe essere caratterizzata plastiche un po migliori allora scopriamo prima in ordine le funzionalità principali direi di iniziare da una piuttosto banale ma molto comodo ovvero trova le tue chiavi sblocchiamo lo smartphone 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 con bluetooth acceso ma non sono collegati le periferiche tramite l'applicazione find my impulse possiamo trovare il nostro dispositivo eccolo trovato il dispositivo con qualsiasi tasto noi premeremo lui si andrà a spegnere ottimo per trovare le chiavi soprattutto dovremo tenere il bluetooth connesso tra i due device potremmo anche spegnere quello del nexus 5 lui rimane stand by e quando dovremo trovare le nostre chiavi attiviamo il nexus 5 per esempio clicchiamo sull'applicazione adesso colleghiamo invece i due device già collegati una volta come potete vedere ce l'abbiamo tra gli accoppiati ci basterà premere due volte il tasto di sistema che sarà connesso estremamente estremamente veloce passiamo ora all'altra applicazione impulsifi scusate non leggevo che ci introduce una breve guida su tutte le impostazioni che possiamo avere con questo a impulse prima cosa per entrare nel questo ipotetico meno impostazioni dovremmo tenere due secondi il tasto di sistema selezioniamo per esempio player 1 quindi solo un giocatore potremmo utilizzare anche due controller contemporaneamente la modalità standard ovvero orientamento orizzontale in questo modo e tipo di utilizzo universale ecco fatto e abbiamo finito di impostare il nostro device ci fa vedere come per esempio la presentazione sull'apple tv come funziona keyfinder e come connettere il device passiamo al lato gaming lato gaming che allora è la parte più importante ma presenta purtroppo di cose qui nel lagune non essendo un device supportato direttamente da android abbiamo tutta questa serie di piccoli giochi compatibili ma io vi consiglio soprattutto l'acquisto di questa periferica se utilizzate gli emulatori perfetta con gli emulatori abbiamo tantissimi emulatori gameboy compatibili abbiamo anche come potete vedere tantissimi giochi molti di picchiaduro a scorrimento emulatore neo neo nes ngp veramente veramente tanti allora facciamo un esperimento per la prima volta con voi in modo da farvi vedere come funziona la gestione di questo controller con un gioco dobbiamo scaricare un'ulteriore applicazione che si chiama impuls jk che purtroppo ha un difetto nel senso che da sola non funziona bisognerà scaricare un'altra applicazione game keyboard che è a pagamento non è sviluppata direttamente dai produttori della periferica e quindi bisognerà comprarla mi sembra che il suo prezzo sia di circa 1 euro e 60 1 euro e 70 noi ce l'avevamo già quindi non abbiamo dovuto acquistarla poi per abilitarla dobbiamo fare impostare qua a impulse gk impostare qua a impulse gk e come potete vedere possiamo emulare la tastiera o emulare il touch screen purtroppo per emulare direttamente il touch screen c'è bisogno del root adesso fatto questo apriamo un gioco direi di fare un gta che è uno dei giochi un po' più completi gta 3 ok saltiamo la presentazione allora con gta 3 adesso è la prima volta che lo proviamo proprio per fare un test con voi con altri giochi ci siamo trovati bene un paio c'è andato in crash il sistema probabilmente qualche incompatibilità tra la periferica e il e il tipo di metodo spero che così vediate probabilmente un po' scomodo rialzo leggermente il pad allora ora dobbiamo impostarlo scusate come potete vedere qua ci sono i classici tasti start scusate di sistema noi adesso dovremmo cercare di simulare ovvero di riportare esattamente come fossimo noi con le nostre dita a toccare lo schermo purtroppo non mi ricordo il tasto un secondo solo un secondo solo non vuole che si fosse chiusa l'applicazione ok eccola qua scusate dovevo attivarla un secondo come potete vedere questi sono i tasti che possono essere messi al di sopra dei tasti virtuali possiamo poi provare direttamente a metterli ok possiamo impostare un profilo per esempio mettere il profilo GTA in questo modo ok ok aggiungere un bottone in questo caso non abbiamo più bottoni disponibili touch point e riattivare il purtroppo come al solito GTA si chiude scusate per la prova un po' lunga ma è una periferica più che altro che la prima volta va un po' infustata ok 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 ci siamo ok ok impostiamo scusate ancora l'attesa ok come potete vedere adesso funziona stiamo guidando vediamo in elettromarcia tutto con un controllo assolutamente migliore con un tasto fisico l'ergonomia non è male però assolutamente il tasto fisico è estremamente migliore e gradevole rispetto a un touch screen soprattutto anche perché non si va a rovinare il fatto di dover mettere sempre un dito davanti allo schermo andiamo adesso a martoriare qualche po' velocivile ok questa è la nostra piccola prova scusate per le difficoltà un attimo di impostazione ma la prima volta come detto il meccanismo è un po' macchinoso ma fatta tale impostazione si riuscirà ad ottenere dei risultati più che soddisfacenti intanto il profilo è salvabile come potete vedere la periferica è piccola e piuttosto economica è in assoluto in sviluppo tutto l'ecosistema delle applicazioni dispiace un po' solo dover acquistare un'ulteriore applicazione tra l'altro di terze parti per poterla sfruttare però 1,70€ a fronte della spesa per la periferica si può ancora accettare tante piccole soluzioni intelligenti quindi se cercate un gamepad economico, piccolo, trasportabile e funzionale questo forse fa caso vostro un saluto da Alessandro per Nexus Lab